Il cuore di Caravaggio e di Van Gogh. L'abbiamo intitolato così questo evento espositivo qui a Tavernola Bergamasca, splendido borgo con vista lago e splendida Villa Elena col suo arborito, splendore del creato e splendore della creatività artistica, in questo caso di Caravaggio e di Van Gogh. Il cuore, il punto più profondo dell'uomo, lì dove ciascuno di noi scopre di avere una grande sete di felicità, un desiderio struggente di amare e di essere amato. Le lettere di Van Gogh esplicitano questa domanda che è anche la chiave di alcuni suoi capolavori pittorici.